ciao oggi è il 27 giugno e qui in italia ha previsto il picco massimo delle temperature intanto in thailandia trovati dei coniglietti abbandonati in una foresta vicino alla spiaggia di lem samila nel sud della thailandia molti dei conigli erano deboli e alcuni erano feriti ha detto wachira pranè studentessa 22enne dell'università thaksin di songla che martedì pomeriggio ha visto tre persone abbandonare gli animali la studentessa ha detto che due uomini e una donna sono arrivati su un fuoristrada hanno gettato diverse scatole di cartone nella foresta e poi sono ripartiti spinta dalla curiosità andata a controllare ha scoperto che le scatole erano piene di coniglietti molti dei quali stavano già scappando nella foresta ha chiamato la sorella maggiore per aiutarla a riprenderli e nel frattempo ha girato una live su facebook molte persone che hanno visto la live hanno deciso di aiutare queste ragazze e sono arrivate dopo qualche ora nella foresta sono stati ritrovati circa 30 coniglietti di cui uno morto il video pubblicato su facebook è stato condiviso rapidamente ed è diventato subito virale molte altre persone si sono recate sul posto e si sono offerti di adottare un coniglietto le ricerche sono continuate anche il giorno dopo ma inutilmente e il banco post ci tiene a sottolineare che quella foresta là è particolarmente piena di serpenti affamati la notizia di oggi finisce qui ci vediamo la prossima